la notte la notte si dorme poco non riesco a dimenticare i pianti di mio figlio mi riecheggiano ancora nelle orecchie quando mi ha visto il 23 settembre ripeto devo ripetere il giorno l'ora perché tutto quello che dico sui social poi va a finire in tribunale non riesco a dimenticare lorenzo i pianti che tu come piangevi quando mi ha visto che volevi tornare a casa il 23 settembre quando sei uscito di scuola quando l'operatrice l'operatrice mariella brenna ha detto che io no non è tua mamma quando tu hai detto mamma e lei ha detto no non è tua mamma è una signora violenza psicologica tanto è vero non è tua mamma è una signora il giorno dopo come hanno scritto presentato in tribunale dei minori hanno presentato il giorno dopo ti hanno fatto accompagnare non è tua mamma il giorno dopo ti hanno fatto accompagnare dai carabinieri violenza sui violenza psicologica costringere un bambino attraverso manipolazioni psicologiche a dire che io non sono la mamma a dire che vuole un'altra famiglia per poterlo vendere a un bambino di otto anni a il giorno dopo il 24 settembre voglio specificare perché tutto quello che dico ripeto tutto quello che dico sui social ma finiva in tribunale quindi devo specificare il giorno 24 settembre mi reco dalla rossini da angela rossini che lavora al centro sociale vestuti di salerno cercando di trovare una media media mediazione per poter vedere mio figlio pregandola quasi in ginocchio pregandola quasi in ginocchio angela rossini tu lo sai che ti ho pregato quasi in ginocchio per poter vi allacciare i rapporti con mio figlio almeno per poterlo sentire per telefono e invece no hai relazionato che io come sono paranoica perché ho detto che mio figlio è ho visto mio figlio il giorno 23 settembre davanti scuola pallido magro e con gli occhi spenti agli occhi spenti perché voi avete tolto l'anima perché vuole la mamma ci state uccidendo in vita quando sono venuta a castiglione del genovese sotto casa sotto casa dove casa famiglia dove si trova mio figlio mio bambino lorenzo fa una continua un continuo una continua cantilena una continua cantilena quanto fa quella cantilena significa che vuole la mamma voi lo state lo state li avete estirpato gli avete estirpato la mamma la mamma questa è violenza psicologica ci state uccidendo in vita a me e mio figlio mi dovete vergognare a causa dei soldi e voglio dire una cosa voglio precisare ad angela rossini l'assistente sociale di mio figlio al curatore viviano a caponegro curatore di mio figlio al presidente della struttura e tutti gli gli occhi spenti ha vestito come un barbone nonostante io vi ho consegnato di mia mano agli operatori ho consegnato di mia mano tutto l'abbigliamento e lo corrente per la scuola zaino penne diari lorenzo quando è uscito dalla scuola era vestito come un barbone con uno zaino rotto scarpe rotte quando la mamma la mamma gli ha comprato zaini fermati tutto nonostante i miei sacrifici che nonostante io non sono benestante quei pochi soldi che avevo io spesso per comprare le cose a mio figlio ho anche tutta la biancheria ho tutta la biancheria usata ho tutti i pigiamini e le biancheria me l'hanno buttata me l'hanno rimasta fuori la porta a Castiglione del Genovese ho speso più di 50 euro per mio figlio tra biancheria pigiama mi hanno rimasto la busta dove è tutto nuovo tutto nuovo tutto nuovo questo è il pigiama tutto nuovo me l'hanno rimasta all'arteva me l'hanno rimasta ah e volevo dire una cosa come si chiama ripeto ad angela rossini bibiana capoliglia presidenza della struttura e tutti gli operatori sono paranoica veramente e voglio sapere una cosa ma i soldi che ho lasciato in casa famiglia per mio figlio dove sono andate a finire e un'altra cosa la pensione che ricepisce mio figlio ma dove è andata a finire il pieno capoligro dove è andata a finire la pensione che ricepisce mio figlio nelle vostre tasche per fare la bella vita siete vergognosi la paranoica questa qua vuole sapere dove sono andate a finire quei soldi i soldi che voi che mio figlio ricepisce lo state costringendo compressioni psicologiche e manipolazioni psicologiche a dire che io non sono la mamma e che vuole un'altra famiglia violenza psicologica violazione dei diritti umani sono senza parole e poi mi accusate la signora risulta inadeguata perché si mette sui social a dire che il figlio non sta bene la signora è inadeguata ma perché avete paura che all'improvviso si avevano dei controlli in quella casa famiglia e veramente mio figlio non sta bene voi passate un guaio angela rossini viviana caponico e sergio consiglio voi passate un guaio con tutti gli operatori lorenzo mamma stava il mamma sta facendo di tutto sta combattendo sta combattendo contro tutto e quando tutti per ottenere la vera giustizia non quella relazionata falsamente quella relazionata falsamente da loro stanno relazionando che tu non vuoi la ma non cerchi la mamma vuoi un'altra famiglia quando appena mi hai visto volevi tornare a casa la mamma sta combattendo io attraverso i social cerco di arrivare alla vera giustizia quindi cerco di arrivare al punto di ottenere giustizia che ci sia qualcuno anche qualche avvocato disposto ad aiutarmi a denunciare queste persone anche con gratuito patocino perché l'ho detto io dopo la denuncia al mio compagno sono rimasta senza figlio senza soldi e senza casa perché mi hanno la famiglia del mio compagno mi ha cacciata fuori io facevo la casalinga sono una donna di mezza età nel sud nessuno ho chiesto dappertutto al sud nessuno mi vuole a lavorare perché dice che sono troppo vecchia ho quasi 50 anni ho quasi 50 anni Rossini e Caponic voglio vedere all'uovo se gli tolgono il posto all'improvviso se lo trovano dopo voglio vedere se gli tolgo che sono vecchie anche loro voglio vedere se all'uovo le vengono licenziate se trovano il posto a quell'età che hanno anche loro comunque devo ringraziare anche voglio ringraziare anche tutti i centri antiviolenza della campania violenza sulle donne che non hanno mosso un dito per aiutarmi se si trattava di andare contro il compagno violento quando si tratta di andare contro le istituzioni anche delle non hanno mosso un dito neanche per aiutarmi nelle proteste la violenza istituzionale è ancora peggiore di quella del nostro compagno perché la violenza istituzionale ci uccide poco alla volta Lorenzo la mamma cercheva di ottenere giustizia anche se economicamente vi basta al verde perché nessuno la sta aiutando ripeto nessuno e con questo ho detto tutto per stasera